Ciao ragazzi, bentornati nell'angolino della posta! Vi devo dire una cosa! Che c'è Alice? Ci stiamo sduplicando! Cioè, in che senso ci stiamo sduplicando? Ci siamo sduplicate su un altro canale! Cosa? Ma sì, ma non è nostro! Ah no? Pensavo che sia un altro canale! No, Alice sta dicendo una cosa molto carina che vi devo dire! Perché stiamo collaborando con un nuovo canale molto e molto interessante! Che si chiama? Si chiama Mega Wow, scritto tutto attaccato! Vi metto poi in descrizione, giù sotto, come si chiama! In modo che possiate andare a vederlo! C'è un mascotte, un personaggio molto molto simpatico! E in questo nuovo canale troverete tanti contenuti! Tra cui anche alcuni con le nostre voci, le nostre mani! Perché ci saranno dei video fatti da noi! E da altri, da tanti altri creator! Bella questa cosa! Un contenitore! Sì, sì, un contenitore in cui però ce li conoscerete benissimo! Perché appunto vi diremo ogni volta che siamo Barbara e Lara e gli altri vi diranno chi sono! Quindi andate anche su Mega Wow e iscrivetevi perché ci saranno un sacco di sorprese, un sacco di cose carine e soprattutto... Cosa, 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 cosa? Ci sarà anche un giveaway! Veramente! Sì, ci sarà un giveaway! E potete partecipare mettendo nella scritta partecipo hashtag tipitim! Così chissà se magari chi vincerà il premio che metteranno in palio sarà un tipitino! Ma sicuramente ci sarà un tipitino che vince! Speriamo ragazzi! Voi andate, iscrivetevi e giocate alla giveaway in modo da poter vincere un bel premio! Non vi dico altro, vi lascio un po' di mistero così sarete curiosi e andrete a vederlo! Posso andare anch'io? Eh no, vengo con te! Allora andiamo a iscriverci! Va bene, intanto io vi leggo un po' di letterine! Allora, guardate, su questa letterina io mi sono scritta Zoe Genio! Perché la bambina che ce l'ha spedita si chiama Zoe! Guardate che carino tutto quanto ritagliato! Ma guardate che ci ha fatto! Cioè, è bellissimo! È un unicorno di pisla mobile! L'ha collegato con gli anellini! È stupendo, è bellissimo! Ci ha messo Barbara e Lara e ci ha attaccato addirittura il portachiavi! Quindi guardate che spettacolo! Questo, quando lo vedi Lara, impazzirà! Sono certa, li vorrà fare pure lei! Questi sono gli anellini di congiunzione! Poi magari se vi va una volta, vi facciamo anche un tutorial di questo così ringraziamo ulteriormente la nostra cara Zoe che ci scrive anche che ha 9 anni, che dice che siamo le sue youtuber preferite e che guarda sempre i nostri video quando torna da scuola e dice che ci vuole bene, viva il tipi team! Grazie Zoe perché hai avuto un'idea creativa meravigliosa! Sei stata proprio brava! Invece qui c'è Rebecca, l'ho messa nel suo nome, l'ho messa nel cuoricino! E Rebecca ha solo 6 anni, guardate come scrive bene, quanto è carina! E c'è anche disegnato qualcosa qua dietro, no, questa è una copertina, è una tovaglietta! E poi, Diletta! Diletta tocca a te, il tuo disegno è bellissimo, pieno di particolari! C'è Casetta LOL con Lillina che cade, fashion, Lollina Priapridi, Lollina è bellissima, c'è un panchino innamorato! Eh? Mi avete chiamato? Ciao, care! Sì, in effetti sono innamorato! Anche se mi schiavizza, io, il mio cuore è per Lollina! Eh, ma Lollina le sa queste cose? Ma, Lollina? Sì! Guarda che panchino ti ha appena dichiarato il suo amore! Veramente? E dice che il suo cuore è tutto per te! Sta partendo! Sta partendo! Cosa? Cosa, Lollina? Cosa sta partendo? Non resisto! Cosa? La gambetta felice! Hashtag gambetta felice! Vabbè, voi andate a... Spaciucchiarvi da qualche parte! E' carinissimo il tuo disegno! C'è anche un miau che dice mi togli il colare! Grazie, Diletta! E' bellissimo! E qui c'è anche la tua letterina in cui ci dice, pensate un po', che ha 61 LOL! E qui ci sta Valentina, sei anni! Guardate quel carino suo disegno! Il mio canale YouTube! Allora, infatti sì, noi siamo proprio... Vabbè, è un contorno! Beh, ovvio, tu mi reggi, ma io sono quella che fa la guest star! Vabbè, sì, hai ragione! Invece, questo disegno tutto sbrilluccicoso, glitteroso, ce lo manda Agatha, che ha 6, ma ha cambiato da 6, ha messo 7 anni, forse li ha compiuti in quel momento, e questa è la seconda letterina che ci manda, e dice che ci vuole bene! Invece, questo ce lo manda Gabriele, che ha 7 anni, guardate che bel modo di disegnare che ha, che carini, sono tutti sorridenti, bravo, sei veramente molto espressivo, ha messo Barbara, Lara, Lele, questo è zio? Ma probabilmente è il Dark, non so chi è zio, forse Barbara, mi vuoi sposare? Ma io sono già sposata con papà! Lara, metti la videocamera accesa, Alice dice le U, e Lele dice, mi spalmi un po' di Nutella! Gabriele, sei pieno di fantasia, è bellissima la tua letterina! Poi qua c'è Carlotta, questo è il suo disegnino con le sue LOL, lei ha Show Baby e Touchdown, e poi ha anche Rocker glitterata, e ha la Big Surprise, e ha Center Stage glitterata, e qui c'è un disegno bellissimo, che invece ci ha fatto Giorgia, e mi fa impazzire, perché è il paradiso di Stella, praticamente c'è Stella disegnata benissimo, guarda, è lei che dice, non dalle da mangiare, immagina un sacco di cose buone da mangiare, e qualcuno le dice no. Quindi, ma è una gioia chiara, ha otto anni, ha disegnato Miau, e ha disegnato che appunto qualcuno gli dice di no, e lei ha otto anni, e ci segue ogni tanto. Poi qui c'è Lidia, che dice che ci adora, ci ha disegnato queste bellissime nolline, e Alice, invece anche Alice, con la sua cucinetta, ci ha disegnato, appunto ce l'ha fatta Noemi, con il nostro fiorellino, appunto, e ha fatto Alice, che fa Master LOL. Poi qui c'è un'altra, altre due cartoline, vedete che le cartoline ricicciano, cioè rispuntano, questa è, guardate che bella, è bucata, è stata mandata da Pestum, e ce la manda Gioia, dice che ci vuole bene, e ci segue sempre. E qui invece c'è quest'altra col draghetto, spedita da Biserba, quindi dalla Romagna, e ce la manda Costanza, che ha nove anni, e quest'anno sono stata in vacanza a Rimini, mi sono divertita tantissimo, ci credo. Poi qua c'è Asia, che ci ha fatto questo marchio di Master LOL, è bellissimo, grazie Asia, è stupendo. Poi qui c'è invece Aurora, che ha nove anni, e questo è un suo collage, guardate quanto è bello, glitterato, è bellissimo. E qui c'è anche un altro disegnino con Diva e uno smile. Qui ci stanno Arianna e Alessandra. Arianna ha dieci anni, mentre Alessandra ne ha nove, disegnano molto 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 bene, e qui invece siamo arrivati alla letterina di Maria Chiara, che ha nove anni come Lara, e quest'anno ha fatto la terza elementare, ma adesso farà la quarta. E qui c'è una letterina della mamma, mamme grazie, perché ogni tanto arrivano anche i vostri commenti, le vostre letterine, i vostri pensieri, io sono sempre tanto contenta quando volete comunicare con me, perché comunque siamo da mamma a mamma, insomma ci capiamo. E mi ha scritto, sono una mamma di Maria Chiara, sono molto contenta che la mia bambina segua il vostro canale, perché le storielle sono molto educative, lei le guarda con interesse, grazie. Sono educative per la sua mente, grazie, io cerco sempre di, non lo so, di innescare gioco, magari dalle nostre storielline, magari a voi viene voglia di rifare gli stessi giochi, e magari vi do qualche idea, che ne so, vedete che noi giochiamo sempre con poco alla fine, perché una casetta si può fare anche con una casetta vecchia, noi spesso e volentieri tutte le casette che voi vedete, alcune le apriamo per mostrarvi le novità, ma tante casette sono vecchie, cioè le avevamo da tanto tempo, a volte andiamo a recuperare delle cose che magari stavano buttate in fondo all'armadio e con le quali non ci giocava più nessuno, invece se uno magari cerca in mezzo ai propri giocattoli ritrova dei tesori nascosti e può continuare a giocare. Questa letterina, bellissima, questo disegno, stupendo, queste siamo io e la Ravide di schiena con tutto il nostro mondo, ce lo manda Flavia che ha nove anni. E qua c'è Alice sdraiata, guarda che bello il pavimento! Lollina raggiante che dice benvenuti al mio canale YouTube e lei dice tecnicamente, è in spaccata la piccina, piccina, tecnicamente è di Lara e Barbara, zecca tu! E qui ci siamo, guardate che bello, quanto è carino questo disegno, sempre un'altra immagine che ci riguarda tramite i vostri occhi, ciao a tutti, sono Barbara, da Lara, e qua c'è Lele che dice ci sono anch'io, da Lele, giusto? E qua ce lo manda Maria Chiara a nove anni, che bello, può anche il cuoricino pieno di arcobaleno. Allora, poi qua c'è Maria che ha sei anni, ci scrivi da Villa Cidro e dice che ci guarda tutti i giorni, guarda che carino il suo disegno, sei stata veramente bravissima, ci ha messo pure i glitter. Questa invece, la letterina di Valeria, questa c'è anche un regalino, è pieno di regalini, voi le vostre letterine sono piene di regalini. Valeria ha dodici anni e mezzo e abita vicino a Napoli e a volte la prendono in giro perché sono bassa e perché gioco ancora, ma io gli rispondo, sì, è vero, ma io mi piaccio così. Oh, brava, questa è la formula matematica della felicità, perché gli altri, e soprattutto sarebbe proprio quello che dice sempre Alice quando dice, questa è una tua convinzione, quello che vi dicono gli altri non è che deve essere per forza la verità, è un loro punto di vista. Quindi se vi dicono che siete grassi, bassi, troppo alti, troppo con gli occhiali, troppo senza occhiali, alla fine, se voi vi piacete e vi volete bene, alla fine, se voi vi volete bene, quello che conta agli altri non conta e anzi, tutti siamo pieni di difetti, quindi ci sono, specialmente, vedi, lei ha dodici anni, quindi alle medie, specialmente nel periodo delle medie, e poi me lo direte voi se ho ragione o no, i ragazzi hanno un pochino di tebolezze, nel senso che magari cercano di trovare i difetti agli altri, in modo che non attirano i commenti su se stessi, quindi è una gara che dice, ah, tu sei basso, ah, tu giochi, ma gne gne gne, giochi ancora, ma io vi dico una cosa, sotto sotto, a dodici anni, giocano tutti, e chi non gioca a dodici anni, si perde un momento della propria vita che poi passa, perché poi purtroppo si diventa grandi e tocca lavorare, tocca fare altre cose, non c'è più tempo per giocare, quindi, ragazzi, fate quello che volete, voi dovete fare quello che vi piace, quello in cui siete felici, quello che vi realizza, e gli altri, o se lo fanno piacere, o pazienza, non saranno i vostri amici, se ne faranno ragione, ma secondo me, se voi siete positivi, alla fine gli altri vi seguiranno, se vedranno che giocate, che siete contenti, vedrete che piano piano giocheranno pure loro, allora, comunque, scrivendo questa lettera, volevo dire che siete le mie youtuber preferite, insieme a me e contro te, carina, che siete troppo carine, grazie per queste cose che mi scrivete così, o magari vi posso dire qualcosa, mi date degli spunti, e guardate un po', Valeria, grazie, anche perché ci hai fatto proprio la famiglia, guardate, io con i capelli di 100 km, Lara Ricciolina, Emiliano, e Emanuele, che bello, poi c'è anche Zira, che l'ho scritto Morki, perché è la razza di Zira, cioè è una razza derivata, e Saccottino, è il nostro sake, quindi ci hai disegnato tutti, è bellissimo, e questo è un regalo per noi, che vale tantissimo, i vostri disegni della famiglia, mi piacciono troppo, e qua, c'è un altro disegno, questo lo chiamiamo selfie, perché ci sta anche chi l'ha fatto, e questa ce la manda Maya, ci scrive da Catania, e ha otto anni, guardate che carina ha fatto Maya, insieme a Lara e a me, e potete leggere la mia letterina su YouTube, eccola, la stai vedendo in questo momento, spero che tu sia contenta di averla vista, ragazzi, quest'altra carrellata di letterine, mille mila è passata, grazie anche a tutti quanti i regalini che ci avete fatto, guarda, ne prendo uno a caso, perché in queste letterine ho trovato questo bellissimo pony, con le ali liquide, guardate, c'è l'acqua con i brillantini dentro le ali, e poi guardate gli adesivi, delle lol, insomma, ci riempite d'affetto e d'amore, e questa cosa è bellissima, e soprattutto mi piace, perché in questo mondo di telefoni, telefonini computer, le letterine di carta, è bello che esistano ancora, ragazzi, la nostra lolina è Alice, e vi salutano, cosa devo fare? Devi salutare, chi? I bambini, dove sono? Nello schermo, ah, lì, ciao, ciao bambini, ragazzi, rimanete sempre con noi, iscrivetevi al canale, qui al centro c'è il fioreno di Babu, per iscrivervi, qui intorno un po' di video da vedere, dopo un bacio a tutti quanti!